ma senza microfono loro si possono parlare e devono stare giusti a un certo punto faccio io allora io lo faccio mi dici dove esco io qua 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 allora eccoci intanto buonasera a tutti gli amici di Soundbunker stiamo per iniziare io sono Lorenzo Pinci la voce che sentirete è quella di Valeria Valente quindi buon martedì e buon ascolto a tutti gli amici di Soundbunker Experience grazie a tutti gli amici di Soundbunker 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti